Eravamo in casa pronti per andare a letto. Arrivato la prima scorsa verso le nove, so proprio con precisione l'orario. C'erano cadere sassi debole con quell'altro, gente che urlava. Io sono uscita da casa, ricordo benissimo l'asfalto che si muoveva, che dondolava come il mare. Io, mia mamma e i miei bambini siamo partiti tutti, però piangendo, piangendo e piangendo. Non si sapeva dove si andava. La gente, tutta la maggior parte, sono andati a Varese o a Lignano. Vai con questi alpini che sanno loro dove portarvi. È stata una cosa molto toccante vedere i miei paesani come ero io anche, non con la valigia ma con i sacchi delle immondizie, con i vestiti. Mossi dalla terra, 1928-1976, alle nove di sera, alle cinque del mattino, a ora di pranzo, scossi, percossi, storditi, allibiti, traditi. Di nuovo buongiorno Friuli. Quello che avete appena visto è un piccolo estratto di un documentario, dal titolo appunto Mossi dalla terra, che è stato realizzato a Cavazzo Carnico e che raccoglie le testimonianze di tutte le persone che hanno vissuto in prima linea questo terremoto, le scosse in particolare del 15 settembre del 1976. Tutti noi ricordiamo la scossa del 6 maggio, ma come la storia ci insegna, in quel 1976 ci furono altre due scosse anche a settembre, l'11, il 15 settembre, proprio nella giornata di oggi, 40 anni fa, alle 5.15 del mattino, alle 11.30, più o meno sempre del mattino, scosse molto forti, 5.9 e 6.0 di magnitudo, che rasero al suolo tutto quello che era rimasto in piedi dopo la scossa del 6 settembre, rendendo vano anche il lavoro di ricostruzione che era stato fatto nei mesi estivi, dopo la prima forte scossa. E per ricordare tutto questo, per ricordare tutte queste storie, per celebrare questo quarantesimo anniversario dal terremoto del 1976, sono state messe a punto tante iniziative in tanti comuni della Carnia, ma non solo. Oggi abbiamo in studio con noi il sindaco di Cavazzo Carnico, Gianni Borghi, buongiorno sindaco e benvenuto. Cavazzo Carnico è uno dei comuni che assieme ad Amaro, Tolmezzo, Verzegnis e Villa Santina ha messo a punto tutta una serie di iniziative per ricordare. Mossi dalla Terra è una di queste iniziative, verrà proiettata questa sera, ci racconta sindaco velocemente quello che accadrà questa sera. Poi torneremo a Gemona, dove vedo già pronto il nostro Davide Zanirato, perché anche a Gemona, come detto prima, questa sera c'è un avvenimento, un evento importante in Duomo. Sindaco, invece a Cavazzo cosa succederà? Saluto anche Monica Nardini, mi ero dimenticata, scusami Monica, ho fatto una presentazione un po' lunga. L'importante è ricordare l'evento, io sono sempre qua per affiancarti, per aggiornarvi sulle ultime notizie qualora dovessero uscire, ovviamente per rilanciarvi del materiale sull'anniversario anche odierno proveniente dalla rete. Ma rifletteremo anche sul terremoto, ovviamente sulla ripresa delle scuole, anche il Centro Italia faremo un pochino anche questo parallelismo, visto che parleremo anche di esodo a Lignano, di scuole, di quanto fu. Sicuramente il collegamento con quanto sta accadendo in Centro Italia è doveroso, anche perché le nostre genti, le nostre popolazioni sono impegnate in qualche modo in Centro Italia. Sindaco, ritornando invece al video bellissimo che abbiamo visto in versione ridotta, un piccolo trailer in apertura. Lo potremo vedere interamente questa sera a Cavazzo Carnico? Allora, a Cavazzo Carnico questa sera è prevista la proiezione di questo video che è intitolato Mossi dalla Terra. Ecco, Mossi dalla Terra perché? Questa idea risale dal fatto che sul terremoto del 1976 sono stati scritti fiumi di pagine, abbiamo una documentazione fotografica, di documentazione video importante. Quello che manca e che è mancato è proprio quello di avere delle immagini, dei racconti delle persone che hanno dovuto subire un esodo. Un esodo perché? Perché come diceva lei giustamente, se il terremoto del 6 maggio ha distrutto le case e la gente friulana ha capito di aver perso le case, per noi il 15 settembre un'altra scossa con la stessa magnitudo, ha significato in quel momento aver perso e essere quasi consapevoli che forse avevamo perso la nostra terra. E il messaggio più triste, più doloroso è quello di rendersi conto che non ci sono più le condizioni per abitare e che bisogna fuggire. queste testimonianze di quello che ha sofferto, patito dal punto di vista psicologico la nostra gente non era mai stato narrato. Ecco perché abbiamo voluto commemorare il quarantesimo anniversario con qualcosa di inedito. Ecco perché quindi non abbiamo dato l'enfasi alla ricostruzione, perché la ricostruzione è un modello che ormai non ha bisogno di essere raccontato perché si vede, mentre le sofferenze della nostra gente purtroppo è rimasta e si è persa con la memoria di quelli che non ci sono più. Che non ci sono più, sicuramente. Queste testimonianze sono davvero molto molto belle perché ci emozionano davvero. Sono spontanei, sono sincere, sono davvero commoventi, è proprio il caso di dirlo. Adesso andiamo in collegamento con David Zanirato a Gemona. David, e ti vedo ancora con il sindaco Urbani. A proposito di eventi e di pubblicazioni, opere inedite anche a Gemona. Questa sera andrà in scena qualcosa di inedito, tra virgolette. A te. Sì, grazie Angelo. Dici bene l'avvero immaginato prima, lo spettacolo Orcolat 76 di Cristicchi è molto atteso perché forse racconterà ancora in maniera diversa la sofferenza e la voglia di rinascita che c'è stata in questa terra. Sì, è uno spettacolo molto atteso, ha già al tutto esaurito su tutte e due le serate e quindi diciamo che è uno spettacolo che vuole raccogliere col patrimonio di sentimenti, col patrimonio di idee che è stato alla base della ricostruzione del modello Friuli, naturalmente visto con gli occhi di uno che è nato dopo il terremoto come Simone Cristicchi che viene da fuori regione e dunque una rilettura della ricostruzione ma anche del momento di emergenza e dell'insieme del terremoto e di tutte queste esperienze da parte di un forestiero che vedremo racconterà veramente con piglio giusto anche facendoci sentire protagonisti questa esperienza che naturalmente nessuno vuole dimenticare. Sarà un fine settimana intenso qui a Gemona perché poi sabato e domenica arriveranno gli alpini da tutta Italia, coloro quali 40 anni fa vennero a dare una mano concretamente a ricostruire i paesi, è vero Sinaco? Sì, sono attesi migliaia di alpine nella nostra città ma anche ci sarà il raduno prima degli undici cantieri che erano sparsi sia in provincia di Udine che in provincia di Pordenone, domenica ci sarà qui la sfilata generale, ci sarà anche la consegna della cittadinanza onoraria alla brigata alpina Iulia, attendiamo anche il commissario straordinario onorevole Giuseppe Zamberletti, sarà una giornata per dire ancora una volta grazie ai nostri alpini che sono stati martiri così come questa città ma che ci hanno aiutato nella fase difficile dell'emergenza e ancora in quella più difficile della ricostruzione. A proposito di emergenza e ricostruzione facciamo un salto ad oggi, ad Amatrice, al centro Italia, lei è reduce da una visita a Lampo in quelle terre, ha incontrato il sindaco Pirozzi, che situazione ha riscontrato? Per chi ha vissuto il terremoto è una rilettura di quello che abbiamo visto noi 40 anni fa, gli stessi visi sconvolti, lo stesso senso di frustrazione e di impotenza della gente ma devo dire ho riscontrato anche un clima positivo con la presenza della protezione civile, di tanti uomini dell'arma che stanno aiutando e alleviando le sofferenze di quella popolazione, naturalmente tra l'altro l'altro ieri pioveva quindi la situazione era ancora più critica, ho invitato il sindaco Pirozzi ad arrivare nella nostra città perché noi siamo la prova approvata appunto che si può ricostruire, si può convivere con il terremoto e oggi in questo momento loro hanno soprattutto bisogno di un'iniezione di fiducia e soprattutto di un contributo fattivo non solo in questo momento dell'emergenza ma soprattutto in quello ancora più critico della ricostruzione. Grazie mille a Davide Zanirato, ha ricordato lo spettacolo di questa sera con Simone Cristichi, poi andremo a sentire anche un'intervista proprio a Cristichi, prima però vorrei ritornare Monica sul discorso del ruolo degli alpini nella prima fase dei soccorsi, delle emergenze, della ricostruzione. Parliamo di questo spirito di solidarietà, questo grazie, questo spirito di solidarietà che anche il Friuli Venezia Giulia appunto adesso sta doverosamente dimostrando verso il centro Italia, abbiamo sentito le parole del sindaco Urbani, ritornando anche al supporto ricevuto dal Friuli, apriamo insieme questo articolo che risulta di inizio estate di Varese segnoso dove si ricorda anche il ruolo delle pelle nere delle Luinese a proposito proprio anche del comune di Cavazzo Carnico, a 40 anni Friuli, quando i nostri alpini offrirono casa agli sfollati, a 40 anni dal terremoto la solidarietà diventa storia, le pelle nere delle Luinese parteciparono alle operazioni di soccorso e quindi anche dal Varesotto ricordano anche questo arrivo degli sfollati anche dal comune di Cavazzo Carnico, questa ospitalità data a centinaia di sfollati appunto nel Varesotto e appunto questi sono gesti che sono ricordati anche in questo documentario di cui parlavamo, c'è stata, ci sono varie testimonianze proprio riguardo anche in questo articolo le amicizie che si sono ovviamente create in questi momenti di intensa umanità così difficili, complessi, ma a quel punto la solidarietà ha dato a tanto, gli alpini aprirono le porte ai loro paesi quando ci fu bisogno e fecero trovare posto, viene spiegato in questo articolo, a oltre 200 sfollati che si stabilirono a Dumenza e ad Agra in un albergo. Oggi questa storia appunto è stata rivissuta, verrà rivissuta ancora a Cavazzo Carnico che tra l'altro di cui l'amministrazione viene anche spiegato in questo articolo, ha fatto visita, a parte una delegazione ha fatto visita proprio nel Varesotto in ricordo di questo, anche di questo progetto del documentario e sarà a sua volta una delegazione di queste penne nere accolta proprio in questi giorni a Cavazzo Carnico, vero Sindaco? Con questa domanda lei mi emoziona perché parlare di terremoto in Friuli significa soprattutto parlare del grande contributo che è stato offerto dalle forze armate ed in particolare dagli alpini perché eravamo una regione militarizzata, la convivenza e la confidenza diciamo con le forze armate e soprattutto con gli alpini per la nostra popolazione è era una cosa naturale, così come è stato naturale che in quelle giornate tremende il supporto delle forze armate e degli alpini soprattutto è stata per noi credo una arma fondamentale vincente perché? Perché gli alpini ci hanno protetto, ci hanno soccorso, ci hanno sfamato, ci hanno dato questo senso di sicurezza che ancora oggi io ricordo in maniera molto molto limpida. Lei aveva 15 anni? Io avevo 15 anni e che ricordo a Sindaco? Che fotografia ha in mente? Io ho due fotografie, quella del 6 maggio quando la prima scossa sostanzialmente distrusse soprattutto diciamo tutta quella che è l'area del cratere del terremoto, noi nel nostro comune per fortuna a causa di una situazione privilegiata che era l'essere già zona sismica che finiva a pochi chilometri di distanza avevamo già degli ancoraggi delle case quindi le case hanno subito danni ingentissimi però non sono crollate e non si sono trasformate per fortuna nelle nostre tombe. Quindi la paura di questa scossa enorme perché è una paura diciamo incomprensibile perché non avevamo esperienze di terremoto quindi questa era la cosa con cui dovevamo lottare che cos'è questa cosa e quindi solo l'esperienza di nostra madre che ci ha detto attenzione c'è il terremoto, l'el terremoto sta il fersa qui e quindi questa immagine che diciamo si condensa in un buio perché è mancata immediatamente l'energia elettrica, un buio, questo rumore assordante, questo essere scossi dal terreno sembrava quasi di essere in una barca in mezzo a un mare in tempesta e questa immagine che mi è rimasta negli occhi e quella che mi ha angosciato di più è stata diciamo vedere anche l'acqua delle fontane che ha cambiato colore si era impantanata, questa è stata un'immagine che mi porta ancora dentro. Per il 15 settembre la cosa diciamo va al momento dell'esodo perché quando diciamo il giorno 15 settembre alle 11 e mezzo è capitato questo nuovo terremoto noi, io abito in una frazione che si chiama Cesclans, è stata completamente isolata e quindi è stato deciso dal sindaco di allora la professoressa Cornelia Pupini di evacuare il paese. Quindi l'immagine è quella di questi grandi elicotteri che arrivavano a caricare diciamo le persone anziane, gli infermi perché quella volta sostanzialmente ognuno di noi teneva a casa i suoi vecchi, i suoi genitori e quindi sostanzialmente questa è stata una delle immagini più crude, quella che mi ha maturato. E poi l'altra cosa che porto profondamente con me è come momento di alta emozione, di tensione è quella di dover prendere e raccogliere quattro effetti personali così in una borsa frettolosamente, fare una lunga marcia a piedi e poi salire su questi camion militari e percorrere quasi tutto il Friuli per arrivare a Legnano. E quello che mi ha ancora di più diciamo turbato è stata questa solidarietà che noi trovavamo per le strade in cui la gente ci salutava come se andassimo in vacanza. In realtà Legnano non era un luogo di vacanza. Poi sindaco ritorneremo proprio sull'esodo anche perché Cavazzo Carnico ha una particolarità. Prima Monica ha ricordato gli alpini della Lombardia che hanno operato a Cavazzo Carnico. Molte persone andarono anche in Lombardia, ospiti appunto di alcuni cittadini. Per dovere di cronaca devo dire che il legame con la Lombardia è stato un legame forte soprattutto diciamo col Varesotto. Uno perché i cantieri di lavoro numero 9 di Cavazzo Carnico è stato alimentato da tutte le sezioni del Varesotto. Le sezioni erano esattamente quelle di Varese, Novara, Comodo, Modosso, La Intra, Omenia e Luino. Quindi sezioni molto grosse. Ma voglio dire che l'ANA non ha fatto solo questo. L'ANA a Cavazzo ha sperimentato ad esempio attraverso i canali della solidarietà e il primo invio di prefabbricati di tipo Rubner e che erano dei prefabbricati adatti per le nostre zone che sono ancora in piedi, che noi li abbiamo trasformati sostanzialmente in villaggi turistici. Ma questa solidarietà del Varesotto si è anche tramutata come un grande gesto di umanità e quello di accogliere circa 200 persone del comune di Cavazzo Carnico e li hanno accolti e li hanno fatti sentire come a casa loro e quindi questo è un grazie che ci sentiamo di rinnovare ancora a questa gente, a queste persone che probabilmente non ci sono più e però che ogni anno vengono a trovarci e che noi restituiamo diciamo come messaggio questo esempio, questo esempio che oggi diventa attualissimo perché quello che è successo in Italia centrale sostanzialmente è rivedere la nostra storia. Certo, è un qualcosa paradossalmente si rivive, è un qualcosa che si ha già vissuto. Ritorniamo adesso a Gemona perché vedo David Zanirato in compagnia di un altro ospite, a te David. Sì, grazie Angela, ci ha raggiunto Fabrizio Pitton che è il presidente del Consiglio Provinciale di Udine abbiamo cambiato anche scenario alle nostre spalle via Bini, la via centrale di Gemona del Friuli anch'essa ricostruita come era e dov'era. Facciamo un salto ideale però dalla Pedemontana, da Gemona a Lignano perché questa mattina lì nella località turistica per Antonomasia del Friuli ci sarà un Consiglio Provinciale straordinario molto particolare, vero? Certo, il Consiglio Provinciale viene spostato nel municipio di Lignano proprio per ricordare e anche ringraziare la comunità di Lignano che nell'esodo di oltre 40.000 persone sulla località, sul distretto balneare 20.000 forne proprio ospitate a Lignano. Allora un gesto di riconoscenza che il Consiglio Provinciale vuole fare verso questa comunità è anche un momento di ricordo e analisi delle situazioni che si sono create perché la comunità Lignano non solo aprì gli alberghi, le case, le strutture ma cercò di ricreare proprio la comunità di questi paesi 20.000 persone furono spostate verso l'esodo e verso Lignano e proprio oggi con noi avremo le persone che hanno fatto la spagina e la storia della rinascita del nostro Friuli avremo con noi il senatore Toros, allora ministro del lavoro l'assessore regionale, allora Dominici il senatore Beorchia e l'assessore provinciale dell'epoca Martini sarà un momento importante per ricordare soprattutto per non dimenticare ma soprattutto anche per fare un'analisi e capire le situazioni di allora con le situazioni di adesso perché i 40 anni del terremoto non devono essere solo ricordo e memoria ma devono essere uno strumento di valutazione di quello che ci accade oggi La provincia di Udine lo ricordavamo prima sarà al fianco poi in serata qui di nuovo a Gemona per questo spettacolo di Cristicchi anche in questo caso attraverso l'arte, attraverso la cultura un doveroso ricordo e anche una riflessione per il futuro Certo, abbiamo usato lo strumento del teatro e dell'arte usandolo come cassa di espansione dei sentimenti e delle emozioni di quel periodo si rinnova il rapporto con l'artista Simone Cristicchi che già la provincia di Udine ha avuto la fortuna di ospitare con un magazzino 18 dando la possibilità alle scuole del nostro istituto di proprio essere presenti e a vedere lo spettacolo Ecco, qualcosa di particolare vedremo all'interno del nostro Duomo stasera un messaggio che viene da un non friulano un romano, un punto di vista particolare, diverso e soprattutto come lo dice sempre lui un omaggio al Friuli Ringraziamo Fabrizio Pitton, presidente del Consiglio Provinciale di Udine A te Angela Grazie allora a Davide Zanirato per questo collegamento Io mi riaggancerei a questo punto proprio allo spettacolo che verrà messo in scena questa sera in Duomo a Gemona e andrei a sentire le due interviste realizzate da Francesca Santoro a Cristicchi e anche a Francesca Gallo che è la cantante appunto che questa sera interpreterà questo spettacolo Orcolat 1976 Vediamo le interviste, poi un po' di pubblicità e poi di nuovo assieme Dopo Magazzino 18 un altro spettacolo dedicato a una tragedia che ha interessato il Friuli Venezia e Giulia Come mai questa scelta? Grazie a Francesca Gallo che è una fisarmonicista una cantante bravissima che fa ricerche sulla memoria storica del nostro paese e insieme a lei abbiamo pensato da non friulani di raccontare il terremoto soprattutto attraverso i canti popolari del Friuli attraverso le testimonianze orali che abbiamo raccolto facendo interviste in questo territorio ne è venuto fuori uno spettacolo corale a più voci anche perché ci sarà un'orchestra sinfonica ci sarà Walter Sivilotti e un grande coro che darà quell'aspetto sacrale all'evento e ci sarà soprattutto il luogo simbolo del terremoto che è il Duomo di Gemona che sarà il contesto e la scenografia perfetta ecco la voglia di anche dare un messaggio di speranza anche alle persone che stanno oggi soffrendo questo dramma Da nonna appunto originario di questa regione cos'è la cosa che l'ha colpita di più in tutta questa vicenda? Sicuramente le persone che nonostante la casa crollata nonostante il dolore della perdita dei parenti o lo sgretolarsi del proprio mondo sono rimaste lì sto parlando degli unici custodi delle valli sperdute di quei signori che a tutti i costi hanno voluto restare restare lì come delle querce piantate con le loro radici queste persone sono un po' il simbolo di chi non vuole staccarsi dalla propria origine dalle proprie radici nello spettacolo pongo degli interrogativi agli spettatori sono Simone che racconta non sono un personaggio e questa è un po' anche la novità dello spettacolo non interpreto nessun personaggio l'interrogativo più importante che pongo è perché noi esseri umani ci ritroviamo come comunità e sentiamo la forza l'uno con l'altro solo nei momenti brutti nelle peggiori tragedie come mai esce fuori la solidarietà ma sempre una data di scadenza in qualche modo e il muro che tiriamo su torna a essere quell'ostacolo che mettiamo gli uni davanti agli altri io sono Veneta di origine e sono cresciuta con un anno che nella storia del Novecento era un anno senza numero ossia l'anno del terremoto si arrivava a contare gli anni fino al 1975 e poi c'era l'anno del terremoto e poi 76, 77, 78 avanti così quindi c'è un po' questo simbolo di un fine secolo che ha scosso non solo il Friuli ma anche le regioni vicine lasciando un segno importante quando con Simone abbiamo pensato di fare qualcosa di produrre qualcosa assieme abbiamo pensato subito a quell'anno che è l'anno vicino all'anno in cui siamo nati noi e dico cosa sappiamo noi di quegli anni perché si tende sempre a fare memoria di quello che è un'epoca storica molto vecchia la Prima Guerra Mondiale la Seconda Guerra Mondiale e avanti raramente si arriva negli anni in cui c'è una memoria ancora da raccogliere non c'è una storia da studiare ce ne siamo resi conto quando abbiamo cominciato a fare le interviste sul terremoto ci sono state delle interviste molto forti una in particolare mi ricordo dopo una quarantina di minuti di testimonianza eravamo tutti in lacrime e chi ci ha fatto la testimonianza ha detto tutti conoscevano questa storia ma io è la prima volta che la racconto ed era la propria storia di vita quindi credo che ci sia tantissimo ancora da raccogliere tantissimo ancora da raccontare ed eccoci di nuovo assieme dopo questa pausa pubblicitaria per continuare il nostro approfondimento di oggi dedicato al ricordo del 15 settembre di 40 anni fa il 15 settembre del 1976 alle ultime due forti scosse che segnarono la storia del nostro Friuli in studio con noi abbiamo il sindaco di Cavazzo Carnico Gianni Borghi come sempre c'è anche Monica Nardini alla postazione web io però andrei adesso subito a Gemona dove c'è il nostro David Zanirato per un nuovo collegamento lo vedo in compagnia del sindaco diciamo così della ricostruzione di Gemona a te David grazie Angela siamo venuti sotto Palazzo Bottone un altro simbolo di Gemona accanto a me Claudio Sandruvi che è stato sindaco dal 1983 ma ha vissuto le scosse di terremoto del 76 e poi tutto l'iter della ricostruzione a settembre cosa cambiò qui a Gemona in particolare Sandruvi? a Gemona come penso molto del Friuli cambiò molto perché abbiamo veramente capito che cos'è il terremoto quali danni può provocare e quindi tutta la parte dell'emergenza che pensavamo di così riparare le case rientrare quindi più presto possibile nelle nostre case abbiamo capito che non era possibile anche se questo ci ha ovviamente mortificato perché pensare all'esodo pensare all'inverno pensare dove portare la gente è chiaro che c'è stato uno sconforto nei volti di tutti ci guardavamo senza parlare e ci dicevamo chissà se si riesce ad andare avanti invece fortunatamente l'esodo è stato importantissimo infatti anche oggi a Lignano ricordano quei giorni io ero stato delegato dal sindaco benvenuti ho fatto tutto la parte dei cittadini di Gemona che sono venuti a Lignano pensa che avevamo 6.000 cittadini giù a Lignano una popolazione allora che era circa di 11.000 più o meno gli altri ovviamente avevano interessi a non poter lasciare qui perché avevano magari animali avevano altre cose quindi sono rimasti qui nei prefabbricati provvisori nei container però la maggior parte era a Lignano e tra l'altro molti lavoratori che ogni giorno partivano da Lignano venivano su ad aiutare a ricostruire le fabbriche e c'è stato un esempio grandioso ecco di laboriosità e di voler proprio ritornare a vivere nel migliore dei modi in un'ultima battuta Sandruvi se dovesse dare un consiglio alle popolazioni del centro Italia che stanno rivivendo come il Friuli di 40 anni fa quei momenti tragici quelle difficoltà nel ripartire cosa si sente di dire loro infatti in questi giorni dal 24 agosto quando è successo il dramma nel centro Italia noi abbiamo rivissuto quei giorni siamo vicini io voglio dire a loro questo che non si sentono veramente soli io credo che la solidarietà sia già partita e come a noi l'importanza di capire che non eravamo soli ci ha dato la forza per rialzarsi credo che sia anche per loro e questo è l'augurio più grande è aver fiducia stare con i loro amministratori parlare con gli amministratori pensare alla ricostruzione e naturalmente è ovvio anche alle persone che sono mancate e anche alle persone che oggi soffrono magari negli ospedali e negli altri istituti grazie grazie a Claudio Sandruvi a te Angela grazie allora anche a Davide Zanirato per questa testimonianza per questo intervento Monica a proposito della situazione del centro Italia quali sono le le novità le le ultime notizie che ci arrivano le ultime notizie abbiamo diversi link riguardanti le scuole poi ve li propongo con calma in realtà Angela perché adesso mi ero preparata un link che riguardava proprio il discorso di cui si parlava di ricostruzione quindi abbiamo questo articolo del Corriere della Sera proposto il primo settembre è un intervento di Gian Antonio Stella che appunto come vediamo è intitolato la lezione del Friuli niente illusioni per ricostruire ci vogliono dieci anni la storia dice che servono anni per ricostruire anche Giuseppe Zamberletti viene scritto come leggiamo commissario come sappiamo bene sul doppio terremoto del 76 pioniere della protezione civile anima di quel miracolo che fu la ricostruzione friulana lo conferma ci sono riflessioni su vari terremoti anche oltre a Matrice di cui appunto poi vi fornirò vari dettagli anche sull'Aquila e quant'altro ma ovviamente si parla del Friuli e ci sono anche alcune parole proprio del sindaco di Allora Benvenuti che andiamo a rileggere assieme che fa proprio il punto su questi tempi di ricostruzione eccoci qua si incanta un po' ci sono scendi ancora scendi ancora ecco ok scendi ancora un attimo eccole l'intervento di Benvenuti eccoci qua vediamo se mi perché si incanta che richiama l'attenzione sui tempi della ricostruzione possiamo leggerlo assieme ricordo bene quali furono i tempi racconta infatti l'allora sindaco di Gemone Ivano Benvenuti dopo le scosse di maggio e di settembre finimmo sfollati sulla costa nella primavera del 77 mentre il Parlamento e la Regione facevano leggi quadro rientrammo nei prefabbricati e nella primavera del 78 cominciamo finalmente i lavori di ricostruzione due anni dopo solo per partire capisco perché la vivemmo sulla nostra pelle l'ansia degli sfollati dice Benvenuti vorresti fare tutto subito quando ti ritrovi in una tenda subito quella volta impariamo però che non bisogna avere fretta guai a essere precipitosi si rischia di sbagliare e non si può sbagliare ci abbiamo messo otto anni per tirare su quasi tutte le nostre case spiega Benvenuti 10 per finire davvero i lavori prima le fabbriche poi le case poi le chiese ricorda ancora Benvenuti e a proposito di Zamberletti invece e del modello Friuli anche per la ricostruzione uno dei titoli riportati recentemente dal Messaggero Veneto riguarda proprio su questo modello Friuli che riguardano Zamberletti è questo funziona solo il modello Friuli viene fatto anche il punto però su una sua riattualizzazione andiamo a leggere se lo ritrovo ecco qua alcune parole di Zamberletti la formula Friuli va applicata fino in fondo non basta dare la delega ai sindaci il commissario deve supportargli ripete l'onorevole a chi gli chiede se quel modello necessita di qualche ritocco e se i sindaci hanno bisogno di maggiori garanzie per raggiungere un risultato analogo Zamberletti fa notare che chi ha cercato di modificare il modello Friuli non ha ottenuto i risultati che credeva di ottenere e rilancio a voi queste riflessioni Sì grazie Monica per questo intervento per questo approfondimento per questo spunto di discussione perché Sindaco Benvenuti ha detto alcune parole importanti ha sottolineato i tempi della non possiamo neanche parlare di ricostruzione ma i tempi per chiudere la fase dell'emergenza perché per quanto riguarda il centro Italia in questo momento siamo ancora nella prima fase quella in cui bisogna trovare un alloggio appunto anche provvisorio a tutte le persone che sono rimaste senza tetto la politica forse in questo caso in parte in causa però diciamo i vertici delle istituzioni del nostro paese anche in passato hanno spesso accelerato diciamo così sui tempi della ricostruzione sui tempi della risoluzione dell'emergenza benvenuti Sindaco della Gemona del 1976 ha detto una cosa importante ci vuole tempo anche per rientrare nei primi prefabbricati nelle prime case provvisorie lei si ricorda quanto tempo è stato a Lignano nel 76 direi questo che la nostra gente il contesto del 1976 77 78 erano contesti diversi da quelli di ora farei anche delle puntualizzazioni importanti che vanno in questo senso l'esperienza è una cosa fondamentale da cui dovremmo imparare ma dovrebbe imparare questa lezione dell'esperienza degli altri soprattutto il politico quando si lascia a delle dichiarazioni diciamo molto facili che poi non possono assolutamente trovare nella realtà una vera concretizzazione perché perché giustamente quando succede una catastrofe di queste dimensioni come lo è stato il Friuli nel 1976 è impossibile pensare che si possa transitare in tempi brevissimi da una situazione di soccorso e quindi dalle tende alle case anche perché ci si dimentica di una cosa importante quando c'è una distruzione di un territorio così ampio non sono solo le abitazioni ci sono le infrastrutture c'è un mondo da ripensare e ripensare il mondo il modello con cui si vuole ricostruire è fondamentale la nostra gente ha a malincuore lasciato diciamo la propria il proprio paese il proprio comune perché era attaccata al suo territorio attaccato al mondo produttivo anche se non era rimasto più molto non era rimasto più molto però però è difficile mollare tutto e andare altrove era produttivo anche diciamo la famiglia in sé perché spesso cose che non si vedono più in quel tempo invece spesso le famiglie avevano anche la possibilità di avere un reddito accessorio che era proprio dalla conduzione di un'attività agricola quindi la gente era legatissima alla terra quindi ha fatto molta fatica ad andare via e quindi si è andati si è partiti tutti quelli che potevano diciamo in qualche maniera lasciare la propria attività ma le famiglie sono state anche spezzate perché spesso di questo esodo non si dice una cosa sono andate magari le mamme con i figli ma sono rimasti gli uomini sono rimasti i mariti ad acudire gli animali le attività a sorvegliare quello che era rimasto quindi diciamo è stato un esodo un po' particolare la nostra gente però si è rimboccata le maniche da subito cioè non ha aspettato lo Stato non ha aspettato niente ed è stato questo che ha conquistato secondo me completamente anche l'opinione pubblica ed è anche qui che il Friuli è entrato nel cuore insomma e nell'emozione degli italiani ma anche della solidarità internazionale sui tempi anche qui è importante capire perché ogni contesto ha dei tempi suoi io lo dico oggi a distanza di anni e a mente fredda il terremoto del 6 maggio ha portato distruzione ha portato mille morti 3.000 feriti 100.000 persone senza tetto 100 mi pare 37 comuni disastrati quindi vuol dire proporzioni enormi e queste proporzioni sostanzialmente hanno avuto la necessità di pensare a tempi molto molto lunghi perché perché c'era un patrimonio edilizio diciamo sostanzialmente da recuperare quindi che cosa è successo ma lo dico sempre a mente fredda e adesso la scorsa di settembre ha dato la possibilità di stroncare queste situazioni e quindi di fare quasi una tabula rasa da cui ripartire ed era più facile ripartire forse il modello Friuli ha avuto anche nella sua sfortuna questa opportunità quindi sono stati coraggiosi quei sindaci che hanno diciamo pensato di portare via le macerie ricostruire anche se voglio dire portare via tutte le macerie se ne è andato anche tutto quel patrimonio artistico rurale che avevamo e quindi diciamo sono stati persi tutti quei squarci caratteristici dei nostri dei nostri paesi e la foga poi di ricostruire diciamo ha portato a un'edilizia diversa quindi non più le corti con più famiglie non più un'attività rurale connessa all'abitazione ma ognuno all'interno della propria casetta isolata e io lo dico sempre questo è quello che ha cambiato dal prima e poi e quindi ho sentito prima l'intervista di Cristin che dice perché la solidarietà umana nasce solamente nelle tragedie proprio perché le persone abitano a casa loro e non si confrontano mai perché la solidarietà la puoi esprimere sempre col vicino di casa non solo le tragedie e quindi dispiace vedere che solo nei momenti così tragici la gente va alla ricerca dell'altro fisicamente diventa stato e invece la gente deve sentire la nazione e deve sentire che queste cose insomma è un patrimonio della nostra comunità della nostra cultura quella di mettere a disposizione qualcosa per un altro che non è solo ed esclusivamente in queste situazioni in queste situazioni è logico bisogna correre in soccorso perché la solidarietà è stata l'arma vincente del modello Friuli certo gli aiuti arrivati da ogni parte del mondo l'abbiamo visto l'abbiamo raccontato anche durante le celebrazioni per il 6 maggio e voglio dire su questo sono state anche splendide mi pare le affermazioni del senatore Toros che dice che il nostro ambasciatore silenzioso in giro per il mondo che ha fatto conoscere il Friuli che ha portato i valori ai modelli diciamo caratteristici della nostra comunità della nostra civiltà sono stati i propri migranti e quindi i migranti apprezzati e questa formula penso abbia contribuito tantissimo a quella che oggi noi chiamiamo la solidarietà internazionale solidarietà di cui certo non contribuiscono i casi di sciacallaggio c'è un'ultima ora dal sito Ciccom24 per esempio che parla di nuovi arresti in centro Italia per questi casi di sciacallaggio invece se posso Angela ritornando proprio al centro al centro Italia velocemente appunto si parlava dell'importanza ovviamente di prestare soccorso della solidarietà anche della ricostruzione nei tempi ovviamente opportuni più rapidi possibili potendo ma ovviamente l'importanza anche di avere una nuova forma di normalità nonostante la difficile situazione una normalità ad offrire anche in particolare ai bambini si è parlato molto in questi giorni anche delle strutture scolastiche allestite anche in tempi molto rapidi specialmente anche in una delle località simbolo di questo sisma quindi Amatrice terremoto uno dei titoli che vediamo riportati dell'ANS in questa sua recente notizia Amatrice torna a scuola entro un mese decreto per la ricostruzione ma solo appunto uno degli aspetti trattati comunque c'è stata grande emozione per la prima campanella che è suonata anche ad Amatrice la scommessa è già vinta nella frazione Villa San Cipriano dove circa 170 alunni tra i 3 e i 18 anni sono tornati sui banchi nella nuova scuola provvisoria allestita a tempo record nel cratere del sisma quindi di fine agosto e poi appunto si è appreso che entro un mese verrà approvato un decreto legge per la ricostruzione delle zone colpite dal sisma a proposito di scuole anticipo rilancio anzi questa recente notizia secondo dati riportati da Repubblica in queste zone del centro Italia almeno una scuola su tre è inagibile quindi viene fatto il punto sui dati della protezione civile sui vari edifici scolastici che sono stati colpiti in questi paesi anche sulle modalità di comunque offrire l'istruzione e questa sorta di normalità ai ragazzi per quanto possibile eh sì c'è un po' immagino la voglia di ritornare per quanto possibile alla normalità di ripartire magari da alcuni punti fermi della propria vita e la scuola sicuramente per i bambini ma anche per i genitori per tutta la famiglia è un punto fermo un punto di partenza adesso torniamo a Gemona torniamo con David Zanirato che mi pare sia all'interno Davide spiegaci bene dove sei sì eccoci Angela parlavate di scuola parlavate di ragazze e proprio qui siamo all'interno del laboratorio didattico frammenti di memoria che l'ecomuseo del gemonese ha voluto promuovere proprio per formare le nuove leve per renderle edotte su tutte le precauzioni su tutte le prevenzioni necessarie in caso di terremoti accanto a me Maurizio Tondolo che è il promotore uno dei curatori di questo laboratorio qui cosa possiamo trovare partiamo da questo globo alle nostre spalle sì allora questo in primo luogo un laboratorio didattico come dicevi sul terremoto un laboratorio che si apre all'esterno quindi in questo paio di stanze che sono state allestite con il contributo del comune di Gemona quindi il comuseo delle acque e il comune di Gemona sono i due i due partner fondamentali il laboratorio tra l'altro ha ottenuto un finanziamento del Gallo Pen Leader quindi è stato appunto rivisto riorganizzato di recente beh attraverso questo percorso le giovani generazioni le scuole di ogni ordine grado hanno la possibilità in primo luogo di capire cos'è un terremoto noi siamo su un territorio fortemente sismico quindi c'è la necessità di comprendere le motivazioni per cui Gemona periodicamente viene colpita appunto dal sisma e poi c'è la necessità anche di fare prevenzione quindi evidenziare i comportamenti corretti affinché le giovani generazioni abbiano come dire la possibilità di valutare preventivamente come devono comportarsi nel momento ovviamente del terremoto della scossa sismica ma anche c'è la necessità di capire la prevenzione che si può fare per quanto concerne per quanto riguarda gli edifici a proposito di edifici qui alla nostra destra abbiamo un simulatore realizzato dal Malignani di Udine ovviamente le collaborazioni nostre si aprono agli istituti del territorio questa è una macchina che ripropone per la durata precisa della scossa del 6 maggio ripropone le onde sismiche che hanno caratterizzato quei frangenti i due modellini che vedete sono diversi il modellino chiaramente più alla nostra destra corrisponde ad una struttura che è stata come dire intelaiata bloccata e che ovviamente resiste alle scosse sismiche invece abbiamo a margine un'altra struttura che non ha queste caratteristiche e che quindi muovendo la macchina cede immediatamente ovviamente è un modo diretto immediato per far capire la necessità della prevenzione come dicevo anche per quanto riguarda la ricostruzione o gli edifici che dal 76 in avanti devono essere costruiti però il laboratorio non si limita a questo paio distanze ma esce anche quindi cerca di cogliere tutti quelli che sono gli aspetti che caratterizzano il territorio del gemonesi in altri termini muovendoci con le scuole su sentieri definiti abbiamo la possibilità di individuare e di interpretare le tracce dei terremoti presenti sul territorio di Gemona ovviamente il territorio Gemona è caratterizzato da tutta una serie di faglie cioè di incisioni di tagli della crosta terrestre che sono più o meno percepibili ce ne sono di massimamente evidenti c'è il sovrascorrimento peri Adriatico che è una paglia di notevoli proporzioni che taglia tutto il conoide di Gemone che in qualche modo spiega perché negli ultimi novemila anni c'è questo grande accumulo di materiali assolutamente sovradimensionato per quanto riguarda i tempi che ha formato dato forma il paesaggio di Gemona però c'è anche un'altra opportunità uscire dal laboratorio e muoversi attraverso le strade le vie di Gemona del centro storico di Gemona per cogliere le modalità con cui la ricostruzione è avvenuta all'esterno abbiamo il palazzo municipale un'assalienza storico-aritetonica straordinaria dall'esterno ed osservando la facciata è possibile cogliere un modello ricostruttivo che è il modello della nastilosi perché tutti i conci che caratterizzavano il fronte principale del monumento sono stati riproposti recuperati e ricollocati esattamente dove stavano prima quindi ci sono più letture di interesse l'invito dunque ai nostri telespettatori di venire a visitare questo laboratorio laboratorio didattico frammenti di memoria ringraziamo Maurizio Tondolo qui tutti i riferimenti sul web per venirvi a trovare grazie a te Angela grazie a Davide Zanirato per questo collegamento che ci ha mostrato un po' tutto quello che ci offre questo laboratorio tutto quello che ci permette di conoscere e di sapere sul terremoto Sindaco lei prima raccontando la sua esperienza ha detto che ovviamente non conosceva il terremoto non sapeva cosa fosse quel 6 maggio del 76 la mamma lo conosceva e vi ha detto fermi tutti state qua il terremoto adesso fortunatamente si sono fatti dei passi avanti molto importanti sul fronte della prevenzione ma anche sul fronte appunto della preparazione delle persone ad affrontare anche un eventuale un eventuale terremoto questo è molto importante perché io ovviamente quel 6 maggio non me lo ricordo perché ero piccolissima però veramente le persone forse non sapevano i più giovani non sapevano non immaginavano quello che stava accadendo era veramente l'ignoto la paura dell'ignoto anche questo la paura dell'ignoto devo dire che l'ignoto aiuta perché quando non conosci certe situazioni insomma le affronti in maniera diversa il 6 maggio l'alleato è stato per certi aspetti anche il buio perché quando non vedi il 15 settembre invece vedere anche quello che succede intorno a te le montagne le frane i rumori è stato diverso voglio dire che cosa resta di questa esperienza quarantennale ecco resta comunque diciamo questo sentimento che noi abbiamo che abbiamo provato che è il sentimento di capire se quando ti muovi nei centri storici nelle città storiche in qualsiasi situazione ci muoviamo noi che proveniamo da questa esperienza il primo pensiero è sono locali sicuri o meno è un'altra riflessione dice se viene il terremoto qua cosa succede questo diciamo è uno dei messaggi che mi preoccupa molto pensando che l'Italia è una regione sismica ma vedo diciamo che c'è ancora poca cultura della prevenzione perché alcuni interventi leggeri andrebbero fatti e sono gli interventi che non preservano gli edifici sostanzialmente da una situazione di crollo ma quantomeno ti permettono di salvare le vite umane preservano la vita delle persone sicuramente ci fermiamo per l'ultima pausa pubblicitaria poi gli ultimi minuti assieme fino alle 9 eccoci di nuovo insieme per quest'ultima parte di Buongiorno Friuli parlavamo prima dell'importanza di essere preparati di saper affrontare un'eventuale scossa di terremoto e va proprio anche in questa direzione l'esercitazione che la protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha programmato per oggi un'esercitazione nazionale a dire la verità doveva essere un'esercitazione importante un'esercitazione molto più imponente diciamo così poi l'attualità dei fatti il terremoto in centro Italia ha giustamente dirottato tutte le energie e tutte le risorse su quei territori è rimasta comunque in programma per oggi un'esercitazione della protezione civile e Monica ti cedo la linea così ci racconti quello che accadrà per commemorare anche queste scosse di settembre come vediamo anche attraverso il sito della protezione civile regionale e quindi è stato proposto alle amministrazioni comunali ai coordinatori dei gruppi comunali della protezione civile una attività esercitativa alternativa quella appunto di cui aveva ricordato Angela quella quindi nazionale avente per oggetto la compilazione delle schede del cosiddetto risentimento sismico e la prova di attivazione anche a livello comunale anche in relazione a queste simulazioni questa esercitazione avrà inizio simbolicamente alle 11 e 21 di questa mattina proprio anche in ricordo della scossa del 15 settembre quindi sarà inviato a tutti i comuni delle mail di notifica dell'evento sismico un email di notifica dell'evento sismico simulato con allegate le procedure previste dal piano di emergenza comunale per i diversi livelli di attivazione del sistema di protezione civile pochi minuti dopo invio le medesime email di emergenza delle schede descrittive da utilizzare per la compilazione delle schede di risentimento sismico una cosa tecnica però mi faceva piacere farvi capire essenzialmente proprio in estrema sintesi che cosa si tratta perché la protezione civile spiega anche come appunto nel momento in cui si è notizia di queste scosse è importantissimo fin da subito coordinarsi anche per dare delle informazioni adeguate anche sugli effetti che si risultano almeno momentaneamente prodotti quindi è importante per il sistema di protezione acquisire e organizzare nel tempo più breve possibile alcune informazioni chiave alcune sono fornite in tempo quasi reale dal sistema di monitoraggio altre possono essere come ci viene spiegato ricavate indirettamente da sistemi di comunicazione altre ancora devono necessariamente essere mediate da operatori presenti sul territorio comunque la protezione civile anche per chi volesse approfondire a queste slide questo materiale che parla anche di questo risentimento sismico andiamo a leggere solo qualche veloce parola poi Angela ti ridò la linea dunque riporta sempre questa ricostruzione del quadro di risentimento sismico quindi l'importanza di questi danni reali da stimare da convogliare da coordinare giusto qualche parola poi adesso abbiamo tanto altro di cui parlare Angela per cui ti riporto ti ridò subito ovviamente a te la parola grazie Monica io cedo subito la parola invece a David Zanirato in collegamento sempre da Gemona davanti a uno degli ultimi murales realizzati in città anche questo simbolo un po' della rinascita di Gemona dopo il terremoto a te David sì grazie Angela dici bene alle nostre spalle l'ultima novità proposta dai ragazzi di i bravi ragazzi di Gemona questa associazione presieduta da Mattia Boezio accanto a me e a lui chiediamo subito di raccontarci cosa è stato creato alle nostre spalle allora praticamente il tema di quest'anno ho voluto dare un omaggio un po' ai 40 anni del terremoto puntando non tanto sulla ricostruzione sulla tragedia ma quello che accade dopo la tragedia ovvero la ricostruzione la forza che mette in moto anche una tragedia la fratellanza e l'unione soprattutto a nostre spalle vediamo praticamente una donna che tiene in braccio una divinità che sarebbe l'araba fenice che è il simbolo della rinascita come l'araba nasce sotto le sue ceneri anche qua gli artisti hanno voluto interpretare questa figura la donna invece ha due significati uno è la protettrice del monte Chiampon e l'altra sorreggendosi la testa con la mano sotto diciamo sotto il mento dal simbolo della rinascita della ripartenza della voglia di rinascere insomma ecco è stata realizzata da voi e dei bravi ragazzi questa associazione che negli anni si è resa celebre per il festival elementi sotterranei che ha portato la street art a Gemona esatto sì diciamo che il festival elementi sotterranei dopo dieci anni abbiamo deciso di concluderlo e concluderlo in bellezza con 60 artisti e oltre 2000 metri quadri dipinti l'anno scorso visto che comunque quando è nata la situazione dieci anni fa non siamo più ragazzini quindi abbiamo più 17 anni ma insomma le esigenze cambiano abbiamo deciso che insomma le potenzialità non c'erano più e le forze per continuare a fare un festival così grande a livello europeo diciamo e quindi abbiamo deciso di ritornare un po' alle origini creando qualcosa di un po' più piccolo e un po' più bello e anche sotto le nostre potenzialità come dicevo quest'anno abbiamo deciso di chiamare due artisti spagnoli uno era già stato si è già venuto nel 2014 qua Christian Blanchster di Barcellona e un altro suo amico che è Repo tra l'altro cugini sono che invece di Siviglia che ha deciso di dedicarsi quest'opera per i 40 anni del terremoto ecco a proposito di 40 anni del terremoto tu fai parte della nuova generazione quello che non ha vissuto ma che l'ha sentito attraverso i racconti come si vive in una città che ha questa eredità così importante alle spalle ma diciamo che forse noi non ce ne rendiamo conto giustamente ed è normale è un po' difficile scorrarsi addosso appunto se è il terremoto è il terremoto forse bisogna veramente guardare avanti è quello che noi puntiamo non avendola vissuta chiaramente non possiamo capire cosa è successo in quel periodo però cerchiamo di immaginare e con questo dipinto abbiamo cercato di dare a Gemona quello che si merita un po' una rinascita forse è quello che non è mai successo dopo il terremoto la città è rinata ma non la popolazione allora magari con questi dipinti con quest'arte noi cerchiamo di ridargli un po' di brillantezza ecco ringraziamo dunque Mattia Boezio dell'Associazione Bravi Ragazzi potete venirlo a vedere tutti quanti qui in Via Patriarca in Centro Storico a Gemona del Friuli ringraziando per la collaborazione Fabio Di Bernardo la linea definitivamente a te Angela al studio un saluto a tutti da Gemona ciao David grazie mille per questi tuoi collegamenti ci ritroveremo anche domani sempre al mattino domani parleremo della maratonina tra l'altro che in programma nel fine settimana tra Udine e Cividale Sindaco ritorniamo invece all'argomento di oggi mi piacerebbe ritornare su una considerazione che ha fatto lei prima sul ruolo che ha avuto sul significato che ha avuto il terremoto nel segnare le tappe della vita di chi l'ha vissuto ma anche di chi non l'ha vissuto perché ha detto noi quando parliamo prendiamo il terremoto come punto di riferimento temporale si dice prima e dopo il terremoto e questo è significativo perché un evento è entrato nel modo di parlare delle persone è davvero un passo fondamentale della nostra storia sì mi rilancia anche qui una considerazione importante che si rende quasi attualissima perché perché un terremoto devastante cambia cambia le persone cambia il modo di vivere cambia una struttura sociale noi infatti la nostra generazione quando parla di eventi accaduti fa questa considerazione eri al prima o dopo dal terremoto quindi era prima o dopo il terremoto quindi vuol dire che il terremoto in un attimo ha separato due periodi della storia della nostra storia recente allora uno l'ho detto prima era caratterizzato un po' da questo mondo semi-rurale sostanzialmente delle aree colpite dal terremoto quindi i paesi dove le comunità erano abbastanza chiuse dove sostanzialmente le attività erano quelle della gestione della conduzione delle piccole aziendine a conduzione familiare sostanzialmente della gestione del territorio come la coltivazione dei campi dei boschi in un momento queste cose sono sparite ed è ed è capitato di entrare in un'altra era dove sostanzialmente il terremoto ha cancellato queste realtà ha dato il terremoto e lo diciamo dopo anche uno slancio importante a quelle che è stata l'attività diciamo industriale che quindi ha portato con sé un benessere diffuso per molti anni e quindi è cambiata la nostra cultura ci siamo aperti al mondo cioè le infrastrutture sono state diciamo quelle che hanno consentito a una viabilità migliore quindi ci hanno permesso di muoverci con molta più facilità pensiamo che spesso parliamo di paesini di montagna spesso parliamo di situazioni in cui la viabilità interna che nei paesi era molto difficile quindi questo diciamo è stato il prima e il dopo terremoto ma è cambiata anche la gente è cambiato sostanzialmente il modo di vivere l'abbiamo detto prima la ricostruzione del Friuli ha portato diciamo a perdere queste che erano le aggregazioni dei cortili in cui si giocava in cui sostanzialmente si viveva e si condivideva da un momento all'altro questo non è stato più e quindi il messaggio che lanciamo anche alle altre popolazioni cercate di conservare ricordi cercate anche di slanciarvi in quello che è stato un messaggio per noi ricostruiamo com'era e dov'era ma dovete fare come abbiamo fatto noi devono fare come abbiamo fatto noi e noi dobbiamo aiutarli a fare meglio di prima però con molta attenzione perché quando si disgrega il tessuto sociale non si recupera più si disgrega un po' un po' tutto Sindaco abbiamo ancora qualche minuto prima dei saluti finali io ritornerei sul programma delle iniziative che è stato messo a punto per questi giorni dicevamo questa sera alle 20 e 30 in la proiezione di questo video mossi dalla terra abbiamo visto prima alcune immagini un piccolo estratto di questa raccolta di testimonianze degli abitanti di Cavazzo Carnico che hanno vissuto il terremoto alle 20 e 30 in municipio prima alle 18 ci sarà anche il concerto della Brigata Alpina Iulia e qua ritorniamo un po' ad agganciarci al discorso del ruolo degli alpini tra l'altro proprio domani la Brigata Alpina Iulia a Gemona riceverà la cittadinanza onoraria se non sbaglio quindi sabato scusate un'altra cerimonia importante e poi anche domani sempre a Cavazzo alle 18 e 30 all'ex latteria un'inaugurazione di una mostra c'era una volta la latteria questo è un po' il prima sindaco del terremoto e poi ancora il terremoto raccontato dalle nostre dalle nostre immagini sabato 17 settembre una giornata commemorativa per che mette insieme un po' tanti comuni cosa accadrà sindaco sabato ecco come vedete il filone insomma è un filone un po' diverso abbiamo scelto di commemorare in maniera diversa però tra la diversità abbiamo anche pensato di realizzare un evento che coinvolga diciamo tutti i comuni colpiti nell'area carnica e quindi ci stiamo lavorando abbiamo lavorato già dal mese di aprile con l'associazione sindaci del terremoto abbiamo lavorato con la regione per creare diciamo un evento che si realizzi nella parte più alta e più colpita del cratere del terremoto e quindi abbiamo coinvolto sostanzialmente i comuni di Amaro i comuni di Tolmezzo il comune di Verzenis e il comune di Villa Santina e quindi assieme unitamente abbiamo pensato e organizzato questa giornata commemorativa giornata che commemorativa che vedrà la presenza degli ospiti come si diceva prima che ci hanno aiutato che hanno portato solidarietà le persone che hanno contribuito a ricostruire e quindi sostanzialmente sarà un richiamo a tutto quello che è successo ma anche un momento per pensare sostanzialmente a come ricambiare la solidarietà che abbiamo ricevuto noi e trasformarla in atti concreti verso queste popolazioni che sono state appena colpite dal terremoto il 24 agosto quindi Cavazzo si aspetta sostanzialmente di entrare nella cronaca proprio per lanciare questi messaggi che sono dei messaggi rivolti soprattutto diciamo noi non a noi che abbiamo vissuto che abbiamo capito che cos'è un terremoto ma soprattutto alle nuove generazioni perché quello che rimane oggi e quello che deve rimanere come messaggio finale è che dobbiamo perseverare dobbiamo continuare a pensare alla prevenzione e dobbiamo pensare che quando accadono queste situazioni non dobbiamo essere degli spettatori davanti alle evidenti azioni che vanno fatte quando ci sono criticità ma dobbiamo essere protagonisti e si è protagonisti in tante forme quello di partecipare come volontari della protezione civile come partecipare anche sostanzialmente con dei fondi che devono però entrare in un obiettivo comune condiviso un obiettivo che deve essere diciamo anche condiviso dalle istituzioni non solo dai privati perché solo così si realizzano delle cose che noi vorremmo che fossero realizzate cioè ad esempio una struttura un qualche cosa che comincia dalle fondamenti arriva fino al tetto e consegnare qualcosa che sia funzionale e funzionante che sia targato se fosse mi è piaciuta la definizione che dava proprio il sito di Varese News visto prima su questo supporto avuto anche dalle pelle nere del Varesotto e quant'altro si è parlato di gemmellaggio del cuore in questo articolo che penso rappresenti molto bene appunto questo spirito di vera solidarietà di vera amicizia ritornando agli appuntamenti di oggi proprio per ricordare il 15 settembre di 40 anni fa a Lignano ci sarà un consiglio provinciale straordinario proprio per ricordare quanto quanto è accaduto dovremo avere anche un'immagine a supporto di questa notizia ecco la vediamo 40esimo terremoto siamo sul sito della provincia di Udine giovedì 15 settembre consiglio provinciale straordinario a Lignano e spettacolo Orcolat 76 di Cristi Chiagemone di cui abbiamo ampiamente parlato a Lignano c'è anche una mostra particolare in corso vero Monica? esattamente la rilanciamo attraverso Luigi Fiorini che è un volontario Caritas che comunque è coinvolto nell'organizzazione di questa mostra dovremmo averlo in collegamento telefonico buongiorno Luigi buongiorno a voi buongiorno a me allora vediamo se è possibile vedere anche alcune immagini a Lignano è stata allestita una mostra fotografica che ripercorre anche quel periodo di esodo di molti terremotati anche a Lignano vediamo alcune fotografie che lei ha gentilmente condiviso con noi scattate da lei è una mostra che però è una delle iniziative che verranno proposte nel territorio anche nei prossimi giorni ricordo di questo anniversario c'è un appuntamento molto importante atteso anche nel 25 settembre giusto? Sì diciamo che la giornata clou è proprio il 25 settembre dove si parlerà soprattutto di solidarietà dove ovviamente la protezione civile dirà la sua già all'interno della mostra si possono osservare delle foto che ricordano quel 6 maggio ma anche diciamo la data di settembre e sempre all'interno di questa mostra oltre a quella mia la mia parla di solidarietà la Caritas parla di solidarietà mi è piaciuto un po' quello che ha detto il Simone Criscichi mi pare che a proposito di una scadenza come mai la solidarietà ha una scadenza ma ecco la Caritas cerca di di prolungare questa scadenza con atti in tutto il mondo quindi le emergenze terremoto oggi ma ci sono tante altre emergenze poi magari approfondiremo in futuro ovviamente in maniera più corposa come merita questa tematica adesso siamo in chiusura parlavamo anche di strutture scolastiche la Caritas proprio ed è ripilogato anche in questa mostra sta offrendo il suo aiuto ovviamente in particolare in Etiopia lei ha partecipato a diverse iniziative anche in tal senso ci sono fotografie per creare delle strutture scolastiche anche in questi territori sono ovviamente lì non c'è l'emergenza o comunque non sono zone sismiche però ecco la costruzione di queste scuole tiene molto conto di quello che è stato anche un'esperienza locale quindi prefabbricati e noi siamo vicini a queste realtà la Caritas segue circa 60 scuole in Etiopia nella zona di Endibir cerco di portare alcune documentazioni poi ovviamente il discorso andrebbe allargato ecco parliamo di solidarietà di accoglienza ricordiamoci anche l'accoglienza e la solidarietà di questi giorni per tutti i prof quindi contiamo vero Angela di magari riapprofondire una delle prossime puntate grazie a Luigi Fiorini per questo collegamento grazie in chiusura abbiamo anche sforato i tempi rigidi del nostro palinsesto dunque ringrazio velocemente il sindaco di Cavazzo Carnico Gianni Borghi ricordando tutti gli appuntamenti di questi giorni a Cavazzo e negli altri comuni della Carnia grazie di essere stato con noi grazie a voi dell'invito e di averci raccontato anche la sua esperienza grazie a Monica Nardini ciao Monica grazie anche a tutti voi che ci avete seguito anche questa mattina l'appuntamento come sempre è per domani puntuali alle 7 per una nuova edizione di Buongiorno Friuli grazie a tutti